Radio Radicale, siamo in collegamento con Giuseppe Basini per ricordare la figura di Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica, Governatore di Banca Italia, autorevole economista, che è stato un punto di riferimento sia per la storia istituzionale che per il suo impegno da economista. Siccome cadono i 60 anni dalla scomparsa di Luigi Einaudi, volevamo ricordarlo con un liberale doc che come lui era monarchico, anche se poi Einaudi è diventato Presidente della Repubblica. Ricordiamo che la scomparsa di Einaudi è del 30 ottobre del 1961. Allora, quando pensa a Einaudi, onorevole Basini, qual è il suo primo ricordo e soprattutto per quale motivo lo ricordiamo a Einaudi? Quando penso ad Einaudi, la prima cosa che mi viene in mente è che nessuno come Einaudi ha avuto un'esperienza di vita che è passata praticamente attraverso tutta la storia italiana moderna. Perché Einaudi nasce nel Cuneese, ancora in pieno 800, nel 1874. Quindi si forma ancora in pieno 800. È un uomo di poco più di 45 anni quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. Attraversa tutto il fascismo. Nel secondo dopoguerra ha importantissimi incarichi, il governatore della Banca d'Italia, il ministro del Tesoro, poi il Presidente della Repubblica. Insomma, è un uomo e muore nel 1961, come lei ha ricordato. Quindi ha passato praticamente tutte le fasi significative della trasformazione della nazione italiana. E' un'esperienza quasi unica che già di per sé connota una storia. Einaudi nasce a Torino figlio di un funzionario e si forma molto brillantemente agli studi, si laurea in maniera ancora più brillante e dimostra fin dall'inizio delle grosse capacità di studioso. Ha una iniziale simpatia per i socialisti turatiani, che a un certo punto però viene meno perché si convince sempre di più che la libertà economica è la vera base fondamentale per la libertà politica. E ritiene che il socialismo sia un grosso ostacolo allo svilupparsi della libertà economica. Quindi parte con un'impostazione liberale di tipo liberista. D'altro canto è lui soprattutto a pronunciare questa differenziazione linguistica che c'è praticamente solo in italiano, tra liberale e liberista. Che poi animerà una storica polemica tra amici e studiosi con Benedetto Croce, che invece aveva una concezione direi più idealistica della libertà. Noi possiamo dire che ricordiamo più volentieri l'economista che l'uomo delle istituzioni, anche se parecchie innovazioni da uomo delle istituzioni le ha fatte, oppure è un'impostazione sbagliata? E' un'impostazione sbagliata, perché il politico in Audi forse è stato perfino più grande dell'economista in Audi. E' stato un grande economista e questo lo sappiamo tutti. Certe sue pagine scritte all'inizio del secolo sul libero scambismo, sono molto illuminanti. D'altro canto, che la formazione economica avesse in lui un grosso peso, è dimostrato dal fatto che all'inizio dell'esperienza fascista, lui appoggiò questa esperienza. Ma non perché fosse d'accordo con la politica di Mussolini, che allora nessuno ancora avrebbe in capitolo, non avrebbe portato. Quanto perché era d'accordo con la politica di De Stefani, che era più libero scambista di quanto fosse stato Giolini. Ricordiamo, De Stefani era un economista che divenne ministro delle finanze del primo governo Mussolini. Esattamente. Dove la rottura, ecco perché l'uomo politico era anche molto importante in Audi, venne subito dopo, quando il fascismo cominciò con le leggi, con un fortissimo premio di maggioranza, a cambiare le leggi elettorali. Soprattutto dopo il fatto Matteotti. A quel punto, dopo il caso Matteotti e in Audi aderì all'Unione Democratica Nazionale di Amendola, si schierò su posizioni antifasciste, anche se, come anche Croce, aveva votato la fiducia al primo gabinetto Mussolini, che d'altro canto se no non sarebbe nato perché i fascisti in quel Parlamento avevano solo una quarantina di deputati. Fu di grosso dei deputati liberali che diede la maggioranza al primo gabinetto Mussolini. Quando poi Mussolini cominciò la costruzione del fascismo regime, Einaudi e anche Croce si schierarono contro, anzi Einaudi partecipò alla stesura del manifesto degli intellettuali antifascisti, scritto da Croce. Man mano che il fascismo evolveva e diventava regime, l'opposizione dei Einaudi diventò sempre più forte. Ad esempio le leggi elettorali del 1928, ancora più restrittive e sostanzialmente non più democratiche, nel senso che i candidati venivano presentati dal Gran Consiglio del Fascismo, si doveva dire sì o no. A un certo punto lui diede le dimissioni dal giornalista del Corriere della Sera perché avevano mandato via la vecchia proprietà ed era diventato un giornale fascista, smise alcuni insegnamenti e si ritirò negli studi di economista essenzialmente. Giurò fedeltà al fascismo perché altrimenti avrebbe perso la cattedra, ma la sua posizione fu sempre di critica, una critica che, va detto, il regime lasciò che si svolgesse, lo fece sia con Einaudi sia con Croce perché l'altezza del magistero di questi due pensatori era tale che il regime ritenne che fosse suo interesse lasciarli operare, sia pure in un ambito strettamente non politico. In questi anni Einaudi fece un sacco di studi, di approfondimenti, di ragionamenti che poi sarebbero serviti moltissimo nel secondo dopoguerra perché diedero una linea molto chiara di politica economica che poi determinò il miracolo economico. Perché il miracolo economico italiano del secondo dopoguerra è porta a una firma molto chiara, quella di Luigi Einaudi, perché le sue prime scelte del 1945 al 1948 come governatore della Banca d'Italia, poi come ministro del Tesoro, aprirono agli scambi, diminuirono le tasse, insomma fece una riforma complessiva che mise l'Italia sulla strada del miracolo economico. È interessante vedere anche l'evoluzione politica di Einaudi, perché Einaudi come primo Presidente della Repubblica che è eletto dal Parlamento, De Nicola era Presidente provvisorio prima di lui, Einaudi diede un taglio alla Presidenza della Repubblica che poi sarebbe rimasto, un taglio interventista, perché più volte mandò indietro delle leggi al Parlamento rifiutandosi di firmarle, non solo, ma introdusse una grossa innovazione col governo Pella. Non riuscendo alla caduta dell'ultimo governo degli Asperi a imporre Piccioni, che era la sua erede naturale, a primo ministro, ci fu uno stallo in Parlamento e Einaudi nominò di sua iniziativa Giuseppe Pella a primo ministro. Ecco, è l'invenzione del governo del Presidente. Esatto, perché non fu indicato dalla democrazia cristiana Pella, fu scelto da Einaudi. Poi trovò una maggioranza in Parlamento, perché lo votarono tanti monarchici che parecchi socialisti. Quindi fu una maggioranza trasversale da un certo punto di vista. Dopodiché, la presidenza dei Einaudi, se vogliamo, il governo Draghi di oggi è figlio dell'esperienza del governo Pella degli anni 50 e la formula che adoperò Einaudi fu la stessa che ha adoperato Mattarella per il governo Draghi. Quindi c'è un precedente significativo, anche politico, nell'azione di Einaudi. Ma poi è ricordato che l'uomo era capace di sintesi notevoli, perché sull'opinione del 1946 Einaudi si è espresso per la monarchia. Gli invitò a votare monarchia al referendum. Questo non gli impedì assolutamente, perché la continuità della nazione in Einaudi era ben presente, era molto patriottico lui G. Einaudi, a servire poi il paese come Repubblica una volta che il corpo elettorale, anche con i molti dubbi che rimangono, aveva scelto la Repubblica. E' vero questa cosa che quando Andreotti gli andò a proporre la carica di Presidente della Repubblica a nome di De Gasperi, lui disse che non se la sentiva perché andava in giro col bastone e che quindi non avrebbe potuto avere un portamento marziale durante le rassegne militari? E' vero, lo ricordava anche Andreotti, però era poco più che una battuta, era una considerazione, non è che fosse una vera e propria considerazione di una cosa che fosse ostativa. E' vero però che il problema c'era e lui lo sentiva molto perché la zoppia in una persona è sempre sentita male dalla persona stessa. Certo. Ci fu anche una condanna per quella vignetta di Guareschi, se ti ricordi, no? Una pagina dolorosa e brutta per entrambi, sia per Guareschi che per Einaudi. Ricordiamo che Guareschi è stato l'unico giornalista nella storia repubblicana a farsi un'intera, diciamo, a stare in carcere per tutto il tempo che doveva starci per una condanna, cosa che non è più successa. Diciamo questo che Guareschi non andò in prigione per la vignetta su Einaudi. Vorrei che andò in prigione per quella cosa di De Gasperi. Se aveva trovato un documento che indicava in De Gasperi uno che aveva chiesto agli americani di bombardare le zone italiane per far cadere prima il fascismo, che era però un falso, un apocrifo, non sarebbe stato condannato Guareschi se non avesse avuto già prima una condanna perché aveva fatto una vignetta in cui c'era un fiasco che sparava un tappo con la faccia di Einaudi, in quanto Einaudi era un famoso produttore di vino. Quindi il combinato disposto delle due cose. Quello che è certo è che fu uno scontro di due caratteri molto forti, perché Guareschi è stato un personaggio addirittura mitico dal punto di vista della limpidezza e della forza di carattere. E' un uomo che si è fatto tre anni di carcere tedesco durante la guerra perché si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale, in quanto lui era monarchico e liberale. Ci vuole un certo coraggio a fare una cosa del genere. Questa sua rigidenza di carattere la dimostrò anche dopo, quando avendo trovato questo documento, che era falso ma lui lo ignorava, pur essendo stato uno dei principali artefici, Giovannino Guareschi, della vittoria della democrazia cristiana il 18 aprile del 1948, perché la campagna del candido fu qualcosa di incredibilmente efficace, bene, siccome era convinto che il documento fosse vero, riteneva suo dovere di pubblicarlo. E' il problema con i grandi caratteri, le grosse personalità, che molte volte hanno delle rigidezze che sarebbe meglio non avessero, anche perché, se non altro per il fatto del comune sentimento monarchico, Guareschi si è molto vicino a Deinaudi come modo di pensare e di sentire. Però l'umorista che era in lui, lo spirito libero che era in lui, il dissacratore che era in lui, erano irrazionabili. Quindi, per questa, si trovò dei guai dopo, perché Luigi Inaudi, che come caratterino non scherzava neanche lui, se ne aveva male lo querido. Dunque, un'ultima cosa, ogni volta che si parla di rigore economico, di governo del Presidente, si chiedono dei sacrifici agli italiani, molti ricordano il discorso di Inaudi sulla patrimoniale. Allora, è un mito negativo oppure non è stato letto bene il discorso di Inaudi sulla patrimoniale, sulla tassa? Non è stato letto bene, perché Inaudi era perfettamente conscio, primo, della necessità dell'accumulo di capitali per far mangiare l'economia, secondo della necessità che il mercato fosse il più possibile libero. Inaudi, però, viveva in un periodo in cui c'era di costruire un paese, il 45% del reddito nazionale era andato distrutto, la lira valeva in realtà, i depositi valevano in valori reali un terzo di quello che valevano nel 1938. In quella situazione c'erano delle cose necessarie al momento, se si pensa un liberista come Inaudi che fa il primo grande consolidamento del debito, ma era una situazione da stato d'emergenza, perché Inaudi fece questi provvedimenti come consolidamento del debito, ma subito dopo cominciò una politica di abbattimento delle tasse, di libero scambismo e di apertura dei mercati. Quindi il liberismo di Inaudi è fuori discussione, anche perché era basato su solidissime basi teoriche. Lui aveva introdettato completamente la scuola inglese in materia economica e ne è diventato uno dei più grandi maestri. Bene, io ti ringrazio per averci fatto questo bel ricordo di Luigi Inaudi, la prima persona a cui abbiamo pensato per farlo, sei stato tu, anche per alcuni tratti comuni che avete, chiede tutti e due liberali, chiede monarchici e quindi era interessante fare un ricordo che non fosse diciamo il solito ricordo convenzionale dove si cita sempre il conoscere per deliberare. Bene. Vorrei aggiungere qualcosa che non riguarda Inaudi, ma riguarda la persona che Inaudi lanciò nella vita politica italiana, cioè Giuseppe Pella, che io ho conosciuto molto bene perché è stato anche mio testimone di nozze, quindi una persona che frequentavo molto spesso, un giorno ero in macchina con il Presidente Pella. Pella era della stessa scuola di Inaudi, sparanino, meticoloso, preciso. Quando uscì la legge sopra l'obbligo della marca da bollo per gli accendini e così come per i fiammiferi, era chiaro che doveva riguardare anche gli accendini delle automobili. Pella sulla macchina sua di servizio non trovava la marca da bollo vicino all'accendino, si risentì con l'autista e il bello è che questa cosa Pella me la raccontò tanti, tanti anni dopo in presenza dello stesso autista che era ancora quello e il duvido gli comprava la marca e un giorno Pella si seccò, ma lei deve comprare, ma lei è il Presidente del Consiglio, ma figuri se lei deve… No, proprio perché sono il Presidente del Consiglio devo dare il buon esempio. Gli fece una sfogliata e finalmente trovò la marca da bollo a fianco dell'accendino e dice non feci in tempo, mi raccontava Pella davanti all'autista, dice essere contento di questo fatto, lui mi dice Presidente mi ha fatto faticare però, come l'ho fatto faticare? Non voleva rodarmelo, come non voleva rodarmelo. L'autista che non concepiva che il primo ministro dovesse avere delle cose come gli altri era andato da un tabaccaio e si era fatto regalare la marca perché era per il primo ministro. Pella con l'aria disperata faceva, ma si immagina se la cosa fosse finita sull'unità? L'avrebbero fatto nero? L'avrebbero fatto nero essendo lui completamente… L'avrebbero fatto rosso? Ma l'autista non accettava l'idea che il primo ministro dovesse avere gli stessi obblighi dei cittadini. Ma è molto divertente come… È un altro mondo che quello dei Pella e degli Einaudi che non c'è più ed è un gran peccato che non ci sia più. Bene, io ti ringrazio, grazie a Giuseppe Baldini per aver ricordato Luigi Einaudi e anche Giuseppe Pella. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie.